Siamo sulle suggestive colline terramane al confine tra Pineto e Silvia, pochi metri in linea d'aria dalla torre del Cerrano e del panorama inconfondibile di uno dei tratti di costa più belli d'Abruzzo. Il territorio comunale è quello di Pineto, in via Torre del Cerrano. Agli inizi degli anni 2000 viene acquistato un terreno agricolo sapendo o non sapendo che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico. Tanto che dalla comune di Pineto giunge il nulla ossa per costruire solo una casa rurale. Ma qui avviene l'incredibile, al posto della casa rurale sorgono ben tre villette senza che alcun ente preposto al controllo se ne rendesse conto. Ci sono voluti più di vent'anni per far emergere l'assurda realtà delle cose quando una delle proprietarie delle villette, Anna, decide di vendere. Qui è tutto abusivo, le dicono, più che vendere si dovrebbe demolire. Avvocato Antonio Del Vecchio, questa storia è davvero dell'incredibile. Come è stato possibile tutto questo? Questo ce lo chiediamo anche noi. Ce lo chiediamo anche noi e per tale motivo abbiamo avviato tutte le procedure previste dal caso. Quindi stiamo agendo a scienza di civile nei confronti dei venditori. Ma abbiamo tramite anche Eugenio fatto l'esposto alla magistratura inquirente al comune per capire come sia stato possibile poter realizzare questi immobili in queste condizioni in una zona a vincolo pasiaggistico in cui non si poteva realizzare a livello residenziale. Gli originari proprietari che da fabbricato rurale si sono spinti oltre lo ha consentito realizzando tre villette si stanno affrettando a liberarsi di tutto e grazie a un'agenzia compiacente hanno messo in vendita la propria villetta a meno della metà del suo reale valore, poco più di 500 mila euro a fronte di una valutazione che supera il milione. Intanto sia la signora Anna che il proprietario della terza villetta hanno intentato delle cause civili per tutelare i propri interessi ed è partita anche una richiesta di sequestro conservativo per evitare il classico prendi soldi e scappa. Abbiamo saputo che i venditori stanno probabilmente liberandosi di questo bene per andare all'estero. Abbiamo fatto già degli accertamenti, abbiamo visto che uno dei due coniugi ha cambiato residenza e adesso risiede in Albania, abbiamo visto che quando è dato sapere tramite gli uffici pubblici e l'accesso ai cittadini, alle banche dati non hanno altre proprietà. Quindi abbiamo chiesto in corso di causa dal Tribunale Civile di Termo un sequestro conservativo dell'immobile proprio per evitare che venga meno la garanzia patrimoniale. La situazione drammatica di Anna e di suo figlio Eugenio che si ritrovano tra l'altro a non poter sostenere spese per mandare avanti questo immobile perché è un immobile, se vogliamo, fantasma, completamente abusivo. Come se ne esce fuori? Voi state utilizzando un po' tutti gli strumenti a vostra disposizione. Sì, noi abbiamo utilizzato tutti gli strumenti a nostra disposizione sia a livello civile, sia a livello amministrativo, sia a livello penale. Dobbiamo solo avere un attimino di pazienza che si vadano a termine un po' tutti gli esiti e gli accertamenti di questi procedimenti. Capisco dal punto di vista umano e personale la loro frustrazione nell'avere acquistato e quindi può ritrovarsi un immobile che di fatto non esiste dal punto di vista urbanistico e amministrativo, però dobbiamo solo un attimino avere un po' di fiducia e di attesa all'esito di questi procedimenti.